Salve, bentrovati a quest'edizione del nostro telegiornale. Partirà giorno 29 la raccolta differenziata di carte e cartone a Siracusa. Per i trasgressori multa su strada ci saranno la polizia municipale e i volontari dell'OIPA. Manca poco all'inizio della raccolta differenziata a Siracusa. La data è giorno 29, oltre cui si rischia di intercorrere nelle sanzioni e le multe previste all'ordinanza comunale. Al momento la buona pratica è attiva. A bel vedere, nelle ultime settimane, la raccolta di carta nella frazione di Siracusa si attesta intorno ai 600 kg. A Siracusa cambieranno alcune cose, come la raccolta porta a porta da parte della ditta che si occupa di immondizie in città, a controllare che le regole vengono rispettate ed eventualmente a sanzionare trasgressori la polizia municipale con ben 30 agenti su strada dedicati alla specifica funzione. La loro attività intanto sarà di tipo informativo all'inizio e nel caso in cui le trasgressioni siano in flagranza anche di tipo sanzionatorio. Le vecchie campane per la differenziata utilizzate ad oggi verranno trasferite nella zona balneare a dare una mano alla polizia municipale e anche ai volontari dell'OIP, l'Onlus animalista, che svolgerà a sua volta attività di informazione sulle nuove disposizioni e sulle modalità di conferimento della differenziata. Una battuta di cattivo, di pessimo gusto sugli immigrati e scoppia la bagarre. A Melilli uno scontro tra il sindaco che chiede che il presidente del Consiglio Comunale Sbona si dimetta e Sbona ribatte, dimettiti tu. Una frase infelice registrata da un telefonino e bastata per gettare nell'occhio del ciclone il presidente del Consiglio Comunale di Melilli, Salvatore Sbona, del quale adesso molti chiedono le dimissioni dalla carica. La battuta, sgradevolissima, è quella lanciata da Sbona durante uno scambio ironico tra lui e un gruppo di amici. Sbona parlando di migranti in mare e azzarda che, tra le risate dei compagni di ombrellone, non andrebbero soccorsi, abbandonati, a morte sicura. Il clima è quello scherzoso tra amici e la conversazione privata, ma ciò non elimina la sensazione sgradevole di mancanza di tatto e cattivo gusto, come non hanno mancato di sottolineare numerosi commentatori al post comparso su Facebook e ripreso dal parlamentare regionale Giancarlo Cancellieri. Tra le critiche più accese, quelle del sindaco di Melilli, Pippo Cannata, che ha chiesto le dimissioni di Sbona. Non solo, Cannata starebbe valutando se chiedere l'intervento diretto del prefetto di Siracusa. Secondo il sindaco, il ruolo istituzionale avrebbe imposto al presidente del Consiglio Comunale di astenersi. Da battuta di questo peso e insensibilità verso un drammo umano e sociale di questa portata, Sbona da parte sua parla di strumentalizzazione di un episodio che definisce goliardico e vacanziero e che sarebbe stato alterato. Al contempo ha dichiarato anche di non avere alcuna intenzione di dimettersi, rilanciando anzi e stigmatizzando l'operato del sindaco e invitandolo a dimettersi a sua volta. A Ferragosto non si ferma la necessità per chi ne abbia bisogno di trasfusioni di sangue. L'Avis Comunale per questo torna in campo con dei consigli per i volontari. Ferragosto. Non si ferma la necessità di sangue per l'Avis. Un appello alla donazione da parte della sede di Siracusa. In questi giorni che precedono il Ferragosto, dove si presume un maggior utilizzo di sangue intero ed emocomponenti, le scorte di sangue si stanno assottigliando, mettendo a rischio anche la normale amministrazione. Da qui l'appello dell'Avis Comunale a tutti i donatori. Prima di andare al mare, passate da noi a donare. Sono graditi tutti i gruppi, ma un appello speciale riguarda quanti possiedono sangue di gruppo 0RH negativo e BRH positivo. Il punto di raccolta di via Vomplate ne rimane aperto da lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 11.30. Giorno 16 agosto il centro di raccolta dell'Avis Comunale di Siracusa sarà regolarmente aperto dalle ore 7.30 alle ore 11.30. L'invito dei responsabili del servizio di raccolta di Siracusa è quello di ricordare che donare sangue significa donare la vita e che le speranze di chi ne ha bisogno sono risposte nei cittadini di buona volontà che si prestano all'operazione altruistica. Da qui la considerazione del Presidente Comunale dell'Avis, Sinello Moncada. Quanti sono maggioranni in buona salute e non hanno mai provato alla gioia di donare una parte di sé, lo facciano adesso. Questo è il momento giusto per accostarsi all'Avis. Una notte di San Lorenzo tranquilla, stelle e bivacchi sulla spiaggia. La Capitaneria di Porto e volontari questa mattina hanno ripulito. Una notte di San Lorenzo trascorsa tranquillamente la Capitaneria di Porto e Siracusa ha reso noto che nella giornata e la notte di ieri è stato messo in campo un dispositivo di uomini e mezzi per garantire la sicurezza dei fruitori del litorale. Durante la notte, nelle prime luci della mattinata di San Lorenzo, gli uomini della Guardia Costiera di Siracusa, insieme alle Forze dell'Ordine ed Associazioni di Volontariato Rosso e Nova Acropoli, hanno provveduto a monitorare il litorale predisponendo un eventuale intervento d'emergenza in materia di sicurezza della balneazione e navigazione. Dalle prime ore del mattino di oggi le ditte incaricate della Polizia degli arenili hanno spazzato il raccolto materiale, mentre le Forze dell'Ordine hanno fatto sgomberare gli attendamenti e i campeggi per ripristinare l'uso delle spiagge e restituirle in condizioni dignitose dal punto di vista igienico-sanitario. All'operazione hanno collaborato tra le varie amministrazioni comunali della provincia, le Forze dell'Ordine e la Protezione Civile di Priolo. Le attività da parte della Guardia Costiera di Siracusa proseguiranno intanto durante tutta la giornata di Ferragosto, con i pattugliamenti da mare lungo la fascia costiera, attraverso l'impiego di personale pronto ad intervenire in caso di necessità. Capriamo con la cronaca. Un uomo trasportava e nascondeva della droga nella propria automobile, nel bocchettone per la benzina. Per questo un palazzolese è stato arrestato. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 41enne Paolo Mantuano, palazzolese, disoccupato. L'uomo a bordo della sua automobile stava percorrendo Viale Santa Panagia quando è stato fermato e sottoposto a controllo dei militari del nucleo investigativo. I carabinieri hanno stato insospettiti da una serie di manovre compiute dall'uomo alla guida di un Alfa Romeo, manovre che è sembrato servissero a sviare l'attenzione di eventuali pattuglie presenti in zona. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato un involucro con poco meno di 4 grammi di stupefacente, di tipo cocaina, un bilancino di precisione, una seconda confezione contenente qualche grammo di sostanza polverosa di colore bianco, verosimilmente utilizzata da Mantuano per tagliare la droga. Tutto era stato abitamente nascosto all'interno del bocchettone di rifornimento dell'automobile. Arrestato per detenzione, fini di spaccio di stupefacente, all'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Palazzola Creida. E ancora droga, questa volta nascosta in casa. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato per questo due persone. I carabinieri di Siracusa hanno arrestato in fragranza il reato Davide Cappuccio, 28 anni, precedenti penali per il reato di detenzione, fini di spaccio di sostanza. Stupefacente, i militari avevano notato strani movimenti nei pressi dell'abitazione dell'uomo e per questo avevano proceduto ad una perquisizione. Qui hanno trovato 35 dosi di marijuana pronte per essere spacciate, avvolte nella carta argentata, 20 grammi della sostanza dentro due barattoli, 330 euro provento, probabile dello spaccio. Un bilancino di precisione, tutto il rinvenuto è stato sequestrato, mentre Davide Cappuccio è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nell'ambito della stessa attività i carabinieri hanno arrestato anche un incensurato, 39enne Giuseppe Tiralongo. All'interno della sua abitazione, nascosti in una scatola di latta, hanno trovato 12 dosi di hashish, una di marijuana, una bustina contenente semi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione, una busta di plastica ritagliata, il che confermerebbe il fatto che Tiralongo confezionasse lo stupefacente in casa. Inoltre, rinvenuti anche 110 euro provento dell'attività di spaccio. Da qui gli arresti domiciliari. L'incontro di Coppa Italia sabato tra Siracusa e Catania, i tifosi etnei potranno assistere all'incontro, intanto Cutrufo dice è una grande festa di sport. È iniziata la prevendita per i tifosi del Catania in vista del derby con il Siracusa in programma sabato alle 17 allo Stadio dei Simone, valevole quale gara di Coppa Italia. I sostenitori catanesi devono obbligatoriamente essere muniti di tessera del tifoso. Il settore ospiti costa 5 euro più diritti di prevendita. Il termine ultimo per l'acquisto dei biglietti è domani alle 19. Non sarà possibile acquistare biglietti del settore ospiti il giorno della gara. Una decisione è quella di consentire la presenza dei sostenitori ospiti, salutata con piacere dal presidente del Siracusa, Gaetano Cutrufo. Prima di ogni cosa voglio ringraziare le istituzioni per questo atto di fiducia nei confronti delle due tifoserie, ha detto il presidente, e sono sicuro che la risposta sarà una giornata di sport e di festa. Io sono particolarmente contento perché non ritengo giusto privare i tifosi della possibilità di seguire la propria squadra. Sabato, nonostante i precedenti tra Siracusa e Catania, avremo l'opportunità di dimostrare che si può essere tifosi della propria squadra rispettando l'avversario. Vedere lo stadio pieno del colore azzurro, conclude Cutrufo, ma anche con la presenza dei colori rossazzurri, è per me motivo di orgoglio e che vinca il migliore. Bene, con questo è tutto, il Tei Giornali si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti.